Comunico il risultato della votazione. Quarto scrutinio. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluti dei componenti dell'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti. Mattarella 665. Grazie. Imposimato 127. Feltri 46. Rodotà 17. Bonino 2. Martino 2. Napolitano 2. Prodi 2. Voti dispersi 14. Schede bianche 105. Schede nulle 13. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie. 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 Grazie.